Contro il Treviso torna la vittoria al Perugia, partenza Lampo per gli Umbri che al quarto sono già in vantaggio con Guidoni. Al quindicesimo protagonista ancora l'attaccante Umbro che con una bella girata al volo batte il portiere Falcione. Terza rete in campionato per Guidoni. Al ventisettesimo l'arbitro Gambino assegna un calcio di rigore al Treviso. Clementi spiazza Kocic e accorcia le distanze.